Come un gigante! In punta di piedi! La giornata dell'amicizia! Ecco un bel fioccoro! E l'impediremo una volta per tutte di lasciare accese le cose di tutto il mondo! Per trovare la Fatina AccendiTutto dovete entrare nella camera delle porte! La camera delle porte! Aprire tre porte, non una di più! Dietro la porta numero tre troverete ciò che cercate! Ecco, guardate! La Fatina AccendiTutto! Trovate quelle tre porte e troverete la Fatina AccendiTutto! Come un gigante! In punta di piedi! Ogni singola cosa che c'è in tutto il mondo! Temo proprio di Sibo! C'è soltanto una cosa da fare! Troveremo lo smontatutto e gli impediremo una volta per tutte di smontare le cose di tutto il mondo! Per trovare lo smontatutto dovete entrare nella camera delle porte! La camera delle porte! Aprire tre porte, non una di più! Dietro la porta numero tre troverete ciò che cercate! Ecco, guardate! Lo smontatutto! Trovate quelle tre porte e troverete lo smontatutto! Ho avuto soltanto una cliente oggi! Una signora che ha comprato una radio! Perché non ci abbiamo... Come un gigante! In punta di piedi... La giornata dell'amicizia! Ecco un bel fioccoro! Felice e contento! Uno, due, tre! Non si sa mai! Potrebbe tornare utile più tardi, sai! La terza porta! Guarda! Il polpo piagnucolante! A Greg piace molto la sua nuova casa! Già! È tutto merito! Il polpo piagnucolante! Quattro piagnucolante! 16!